L'obiettivo è integrare e migliorare i nuovi servizi di trasporto passeggeri per aumentare l'accessibilità in tutto il bacino dell'Adriatico e ancora sviluppare nuovi collegamenti integrati e multimodali nel sistema aeroportuale dell'area adriatica al fine di promuovere e incoraggiare un trasporto passeggeri più sostenibile ed efficiente. Insomma, grazie al progetto pilota On Cloud 9 sarà più agevole per i molisani raggiungere via Puglia, l'Albania ed il Montenegro tramite Bario Brindisi con collegamenti che saranno garantiti da Molise Tour passando per la Fondovalle Tappino con due Pullman che saranno disponibili il martedì ed il venerdì a partire da martedì prossimo e fino al 9 settembre. Intanto devo ringraziare coloro i quali hanno consentito la nostra regione insieme con la Puglia e con altri partner europei di attingere ad un canale di finanziamento che consentirà il collegamento del Molise attraverso l'aeroporto di Bari sia con il Montenegro e con l'Albania ma anche con altre destinazioni. Un passo in avanti per il turismo, per le occasioni date ai nostri imprenditori lo facciamo dando un collegamento diretto, lo facciamo in maniera sperimentale spero che questo mese ci faccia capire finalmente quale potenzialità possono essere portate per mano dalla nostra regione, sono molto soddisfatto perché finalmente cominciamo ad avere un terreno molto più ampio da esplodare interregionali, il collegamento con queste zone era un fatto importante per la nostra regione, si erano tentate anche altre strade in altri periodi ma noi lo facciamo utilizzando delle risorse europee quindi senza appesantire nemmeno la nostra bilancia regionale.